salutate la capolista salutate la capolista ci avete trattato i piedi fino a lui salutate la capolista Luca, va a fare cura la mamma Luca, due volte che aprimo va a fare cura la mamma eh, ma voi beccherete il paris quello attaccato la stuca attaccato la stuca attaccato la stuca che devo parlare della partita che cazzo me ne frega a me della partita non mi stai cura a fugare che devo parlare della partita è venuta una zero partita che ci siamo mangiate 80 gol ma a me non me ne frega la prestazione penso che oggi pure il bernardesco mi è piaciuto ci siamo qualificati da primi e voi, l'ennesima volta che ci avete fatto il funerale, molto molto prima di quando il morto si toglie, perché il morto si toglie quando è freddo quando è freddo quando è freddo quando ancora ci si muove ciao ciao come ho fatto in paris, in barcellona salutate la capolista che è successo? è quello che freddo prima? c'è la vita del gioco è morto tutti quanti e ora e ora potete attaccare tutto quando faccio un calcio yeah ma che parla della prestazione tattica? non me ne frega un cazzo la partita oggi potremmo vincere 5 a zero pure oggi però c'è una maniera di noi a mangiare i colosimi numero uno però ora a febbraio sarà tutta un'altra juve qualche acquisto a gennaio e sicuramente non becchiamo il per monaco sicuramente non becchiamo il real sicuramente non becchiamo il paris è vero negli ultimi anni noi siamo usciti con squadretta magari usciremo pure quest'anno però la soddisfazione che ci avete a prenduto il culo che beccheremo quello ora stivate zitto manchete i maccaroni e stasera l'Atalanta attasci fuori iscrizione al canale ciao